musica bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video io sono xuder e siamo qua ragazzi con altri tre ragazzi stavamo giocando capitan fulino the monster 128 e fabio iphone e ragazzi ci è arrivato in chat una notizia dal nostro p2 prep una bella notizia ragazzi che è cambiato è incredibile raga ormai lo sapete tutti lo squarcio nel cielo si sta allargando più passano i giorni e più lo squarcio diventa evidente e marcato guardate lì sulla cia al fulino guardate lì a destra come si sta aprendo raga ma guardate guardate a motel raga oh mio dio raga guardate raga il grazie grazie per il raga chi vuole un momento zio il come si dice portale ragazzi ha risucchiato di già l'insegna del motel sta risucchiando tutto allora io voglio dire che ieri il portale ha risucchiato l'insegna di rifugio ritirato e adesso sta risucchiando il motel ragazzi come vedete qua è enorme guardate guardate che roba qua sta spaccando tutto come dimmi dimmi certo qual è l'ipotesi si allucinà allora il ragazzo dice che probabilmente pigames vuole fare un'altra mappa ed è un ipotesi interessante perché abbiamo visto oramai ragazzi è palese i portali risucchiano le cose e se questi che si sono creati hanno risucchiato parti così piccole relativamente della mappa dicono che se questo si apre come quelli risucchia tutta la mappa e cambia la mappa sarebbe veramente ragazzi una roba allucinante io io in realtà ragazzi c'ho un'immagine che però non vi ho ancora mostrato di un'ipotetica mappa nuova raga però mi voglio un attimo tenere prima di farvelo vedere quello che è sicuro ragazzi è che la mappa nell'ultima settimana sta veramente cambiando un botto e quindi solamente chi continuerà a giocare potrà vedere il susseguirsi degli eventi per questo mega video super veloce direi che è tutto io ringrazio i ragazzi per avere partecipato al video mando un bacio anche a voi un bacio anche dalla pamina noi ci vediamo in live ciao nooo 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 nooo